E che si mangia oggi? Prepariamo insieme le cipolle borrettane al forno in agrodolce. Delizio se! Innanzitutto procuratevi delle cipolle borrettane. Pulitele eliminando la prima camicia esterna. E la radice. Versate un filo d'olio in teglia e sistemate le cipolle una accanto all'altra, praticando un taglio in superficie. Aggiustate di sale e pepe, che mi piace assai. E aggiungete lo zucchero. Versate l'acqua. L'aceto. Coprite e portate in forno a 200 gradi fino a bollore. Nel frattempo preparate la panatura. Aggiungete al pan grattato pepe, sale, capperi sotto aceto o dissalati. Aglio e prezzemolo fritati. E mescolate bene il tutto. A bollore eliminate il coperchio. E proseguite con la cottura, fino a quando le cipolle non risulteranno morbide. A questo punto aggiungete la panatura. Un cucchiaio per ogni cipolla. Aggiungete anche un filo d'olio. E riportate in forno a gratinare. Ed eccole qui. Dopo aver pianto tutte le mie lacrime e aver aperto tutte le finestre, anche quelle dei vicini, le cipolle borrettane sono pronte per accompagnare secondi di carne o pesce. Grazie per aver seguito anche questa videoricetta. E se vi è piaciuta, lasciate un like, un commento o condividete. Ciao! Ciao!